No, diamo un microfono a Benito. Benito, mi fai un pezzettino di... Tiri tiri di lì. Ah, tiri 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 di lì. Questo qui, lo sa come si chiama il soprannome? Castiacrasse. No, Caterina, Caterina, mi devi dire, quando ha cantato questa canzone, a piacere da Iuno, Benito, tiri tiri di lì, quando l'ha cantata? Ieri, bravissima, perfetto. Tiri tiri di lì, andiamo avanti. Vai, tira. Andiamo avanti? Sì. Ci vediamo, ci sono pericoli.